in baglio devi andare che cazzo fai qua? ma mi sporchi tutta la sale imbecille vabbè facciamola qua ma che pensi di comandare tu bello? saluta a cazzo adesso? innanzitutto ma perché mi sei mettendo una tovaglia? perché mi hai metto la tovaglia? che tovaglia? questa è una tovaglia? e che cos'è? asciugamano allora innanzitutto che le parrucchiere così fanno aspetta scusi ma che cazzo dici meno mato così fanno e poi legano qua pigli intanto la crema che crema? premettimela qua ma va questa non macchia come la tinta senti o mi fai fare le cose a me giuste o sennò qua te ne vai da qualche parrucchiera con la laurea bisogna mettere ovviamente i guanti perché sì perché la pulizia è la prima cosa se mi sporchi a terra vedi che cazzo ti combino io e bisogna partire dalle radici non ti preoccupare vai ecco qua ah che meraviglia vista ecco qua ti viene effetto shatush così come te lo faccio io ecco qua devi essere in grado per fare certe cose bello mio vedrai che il mio lavoro ti piacerà oh no ma non mi scassare la minchia tutto qua manco ci sei passato ma non mi scassare la minchia ti ho detto mille volte ti devi assegnare a delle mani esperte appunto è chiaro mani esperte fanno giusto ah un attimo tutto caravante un attimo devi lasciare la base almeno più scura se no sembri un monopilettico che ma noi strisce te lo sto facendo vuoi colorata pure la fronte dimmi vuoi la fronte è bionda pure yeah i i i i in i i i